Forse non andiamo a pensare di lei deve mettere i miei pensi. Vediamo da tutti questi venuti. Bandiera dei territori del nord e dell'Australia. Ed ecco l'aeroporto ben mascherato nell'insieme. Avete visto come è nascosto l'aeroporto? Lo vedi appena a pochi metri quando arrivi. Il sottotitolo e il sottotitolo è aperto. Il sottotitolo di sottotitolo è il sottotitolo all'inizio di sottotitolo a te. Per farzare il sottotitolo, clicchè la buccola e clasp, e prendo il sottotitolo a te. Unso il sottotitolo a te. Il sottotitolo è più efficace quando sottotitolo all'inizio, sottotitolo e per le tante. Non so che si chiama il sottotitolo alla vostra posizione. best suited to your seat the on board safety instruction card in your seat pocket shows pictures of your brace position along with other important safety information the a320 has eight emergency exits which will now show you two at the front four over the wing and two at the back of the cabin lights will illuminate showing you the path to follow to these exits if we need to leave the aircraft quickly taking your personal items with you will slow you down so please leave everything behind if a mask like this appears from above you pull it down firmly to start a supply of oxygen quickly put it over your mouth and nose and breathe normally keep the mask in place by fitting and tightening the strap and then help others around you there is a life jacket located in the pouch under your seat if it is required remove the life jacket from the pouch place it over your head pulse the strap around your back clip it at the front and then pull on the loose strap to tighten only inflate your life jacket as you leave the aircraft by pulling down on the red tags you can top up your life jacket by blowing into these mouthpieces the life jacket also has a whistle and a light to attract attention there are emergency escape and flotation devices accessible from each exit by law you must not tamper with or remove any aircraft equipment unless authorized you must comply with any instructions from our crew and any signs that you see on board smoking is not permitted so 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 Grazie per la visione 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 Grazie a tutti Grazie per la visione Grazie per la visione